Buongiorno, perdonatemi la faccia perché appunto è mattina, sono le 8 e 20 Niente, oggi andiamo in piscina, è sabato 26 agosto E niente, quasi mattina Ecco, cresciuto tantissimo Sicuramente avrete già visto il vlog del mare o non credo di mettere prima Vediamo, siamo in preparazione perché la piscina apre alle 9, non ci siamo mai stati in questa piscina Poi ti danno gli ombrelloni che prima arriva meglio alloggia e i lettini inclusi nel prezzo Però se tipo arrivi e non ce ne sono più ti attacchi, poi non essendoci mai stati non sappiamo Quindi io so già il costume, manca da rifare il letto E niente, ne ho già preparato i panini Crudo e mozzarella, mentre per Mattia cotto mozzarella La frutta per Mattia, l'acqua di Mattia Abbiamo pensato di approfittare ancora di giornate che sono belle ecco Ancora belle e calde perché magari bel tempo lo farà per ancora un bel po' di settimane Si spera perché siamo soltanto verso la fine dell'estate Ma verso la fine Però al mare o in piscina non è che c'è tanto modo di andarci Ah mio amore è già arrivato il letto Ma dopo non c'è più tanto modo di andarci Perdonatemi i capelli ma Aiuto E stranamente andiamo a fare colazione al bar Perché praticamente per noi è molto 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 strano che facciamo colazione al bar Aspettate eh, vi metto un attimino qua in bagno con me Dove vi posso mettere? Vi metto là, mi metto seduta sul bidet Sono sul bidet E dicevo è strano che noi andiamo a fare colazione al bar Perché preferiamo farla sempre a casa Anche nel weekend perché Io per esempio in questo momento sto morendo di fame Cioè Appena mi sveglio tempo massimo tipo 10 minuti così Un quarto d'ora io devo andare a fare colazione Perché se no Cioè Non ce la faccio E quindi insomma siamo tipi che anche nel sabato Al sabato o la domenica la facciamo sempre a casa È bello farla anche al bar Però Preferiamo sempre comunque A casa E niente Siamo tornati da 5 giorni Siamo tornati il lunedì 6 E Appena tornata mi sono pesata Mi ho preso un collasso Mi avevo messo sulle Instagram stories Ho preso 4,5 kg in 5 settimane In 4 settimane Attento, attento Ho visto E per fortuna Tornando semplicemente a mangiare le mie cose normali Ho perso E ad allenarmi Ma più che altro a mangiare le mie cose normali Ho perso ben 2,5 kg In 5 giorni Perché Non si sa come l'ho detto anche su Instagram La quantità di Dolci Gelati Eccetera 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 La Coca Cola Anche se non è più esagerato Però Mi sono fatta totalmente i fatti miei E niente Oggi vi portiamo con noi Facciamo anche l'esperimento della GoPro Che Nello dopo un anno Che io gliel'ho regalata Tra un po' Fa di nuovo il compleanno Tra 3 settimane E Che? E inizia a fare i video Ci troverà Eccetto Inizia a usare la GoPro Ha ripreso a fare i video Cioè ci proviamo Vediamo che cosa riusciamo a fare Ovviamente io gli darò una mano Gli monterò i video Però fareli deve fare lui E vi lascio il canale di Nello Come sempre lo trovate qua sotto giù nell'info box Ha integrato una rubrica Dove vi farà review anche di tipo Di cibo Posso fare uno spoiler? Sì Tipo più avanti Insomma ora dei prossimi video Sarà anche su Recensioni Sulla frutta secca Che mangia lui Che consiglia eccetera eccetera E poi Chissà quando vedranno questo video Mattia che spinge il passeggino da gattoni Non dirò che vuole vedere E anche da gattini Matti Andiamo dai Andiamo in piscina Cucciolò Su Fa ciao C'è papà Va via O porta anche noi Ciao papà Ciao 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 T'ha fatto ciao Quando hai acceso la macchina Ciao 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Ancora? e... e... Scusate... o lo finisco qua.